un giorno come un giorno già metto pure la panchina e il mio lavoro e la faccia chi entra a farci di più ma ahahah ha ritmato ma non è un uomo scusa e chi cazzo ? se è questo è questo lo puoi vedere qui ci siamo in cantina ti voglio dire anche noi abbiamo la cantina abbiamo il cacolo noi teniamo Moltervino Oh! Ne teniamo Moltervino? Moltervino si sente meglio di Caccarella Ma senti Moltervino e Moltervino miele abbiamo servito. Amore non parla di panchina, quando l'amico non so somma. Ma dammi la tegia, qui. No, 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 no. Amore, ma noi abbiamo di brazzo, abbiamo di servito. Abbiamo fatto il cannavalo che il Meta Physico era il Paolo di Sireno. Ma questo è un Paolo di Sireno. Non so, no, 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 no. la mia moglie la mia moglie che vuoi vincere? a ma vincere a ma vincere qua lo dico e qua lo nego dobbiamo vincere e l'amore mio che devo togliere anche perchè quello che dobbiamo fare che ne ha fatto uno che ne ha vinto perché non si chiede arno regna e che ne ha fatto un po' bello poi si 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 senti qua me lo asco andrea come lo ha fatto? come lo ha fatto? come lo ha fatto? come lo ha fatto? scusatemi ragazzi com'è? come lo ha fatto? come lo ha fatto? dica dica cosa vuoi sapere? no voglio sapere come dice patate in cuovo perchè ormai si muove patate in cuovo